Sally, una giovane donna, si esibisce tutte le notti in un night metropolitano. Tutte le notti dopo le 23 va in scena cabaret. Tutte le notti dopo le 24 va in scena cabaret. Tutte le notti dopo le 24 va in scena cabaret. Tutte le notti dopo le 24 va in scena cabaret. Tutte le notti dopo le 24 va in scena cabaret. Tutte le notti dopo le 24 va in scena cabaret. Grazie a tutti Grazie a tutti